Nel video di oggi ci troviamo sulle colline del nord Italia. Avvolto in un manto di boschi e panorami mozzafiato, sorge un antico eremo. Nel XVII secolo il conte Gaspare Granieri, animato da profonda fede, donò un terreno e i fondi necessari per la costruzione di un eremo. Il progetto fu affidato all'ingegnere Francesco Lanfranchi e nel 1661 i lavori ebbero inizio. Nel 1664 l'eremo fu donato all'ordine dei camaldolesi che ne fecero la loro dimora per oltre un secolo e mezzo. Sotto la loro guida rimane un importante centro religioso e culturale. I monaci, oltre alle attività spirituali, si dedicavano all'agricoltura, all'artigianato e all'istruzione, trasformando l'eremo in un punto di riferimento per la popolazione locale, un luogo di accoglienza e conforto. Nel 1802, con l'editto napoleonico di soppressione dei beni ecclesiastici, l'eremo fu confiscato e i camaldolesi furono costretti ad abbandonarlo. L'edificio passò di proprietà in diverse mani e subì un graduale declino. Tuttavia, nel 1815 l'eremo fu restituito ai camaldolesi che tentarono un recupero. Il loro ritorno fu però breve. Nel 1860, con l'unificazione d'Italia e le leggi avversive, l'eremo fu definitivamente soppresso. Nel 1902 l'edificio fu acquistato da una congregazione di suore che lo trasformò in un ospedale. Nel 1955 l'ospedale fu riconvertito in una residenza per anziani, ma nel 2013, a causa di problemi strutturali e finanziari, fu definitivamente chiuso e mai più riaperto. E ora partiamo con il video. Me lo avete tanto chiesto, è tornato Don Lodovico a fare urbex con noi. Partiamo per questa nuova avventura. Ciao ragazze, andiamo insieme. Andiamo. Allora, quello che oggi ci attende sarà tutta questa parte di struttura che era l'eremo, poi diventata RSA, questa gigantesca e stupenda chiesa che spunta, pensate, dalla natura. E invece più avanti, dove il Don si sta dirigendo, parte l'ingresso dell'eremo. In più, dietro a tutto ciò, c'è un'altra struttura gigantesca che sarebbe quella nuova, l'RSA, quella più recente. Quindi iniziamo. Eccoci di nuovo, amici di Matteo, per questa nuova scoperta e commento di questo luogo che definirei almeno impressionante. Vi avevo promesso che sarei tornato, me l'avete chiesto e sono di nuovo qua volentierissimo a commentare le immagini che Teo ha ripreso all'interno di questo edificio che trovate alle mie spalle. È un edificio che viene definito eremo. Che cos'è l'eremo? L'eremo è un luogo dove ci si ritira per concentrarsi sulle relazioni. Le relazioni per un cristiano sono di tre tipi, con se stessi, con gli altri e con Dio. Quindi l'eremo non è mai fuggire dal mondo ma è casomai concentrarsi sulle cose importanti. Quindi anche questo eremo che è stato costruito nel Seicento grazie a questo nobile Graneris, che era un nobile di questa zona, ha costruito questo eremo e l'ha lasciato in custodia ai Camaldolesi. Chi sono i Camaldolesi? Camaldolesi sono uno dei tanti ordini che ci sono nella Chiesa Cattolica ed è un ordine formato e istituito da San Romualdo. San Romualdo è stato colui che verso il mille, insieme a San Pier Damiani, ha riformato l'ordine benedettino. Sia per quanto riguarda il Vangelo sia per quanto riguarda la vita degli ordini religiosi, nasce sempre il desiderio nei secoli di tornare a una originaria radicalità. Pertanto anche San Romualdo ha pensato che si dovesse tornare a una radicalità maggiore nell'ordine benedettino che era stato fondato appunto da San Benedetto da Norcia. San Benedetto è un personaggio fondamentale nella storia della Chiesa e del monachesimo occidentale. È un monaco che ha vissuto a cavallo tra il 400 e il 500 dopo Cristo. Grazie a lui sono nate tantissime famiglie benedettine, tantissimi ordini che si rifanno a quel grande suo motto che era ora et lavora, cioè prega e lavora. era, potremmo dire, il continuatore di quella filosofia di vita, di quel modo di vivere che era proprio dei Romani. Infatti anche l'impero romano in occidente era proprio negli ultimi frangenti della sua esistenza, ma le persone avevano ancora quella mentalità. Ecco questo per dire le radici più profonde di questo eremo. Come possiamo vedere è molto interessante perché c'è una parte antica con la Chiesa e dall'esterno è molto ricca. Si vede che è un classico stile barocco piemontese e infatti siamo proprio nel periodo del barocco piemontese, cioè questa Chiesa, guardando sulle informazioni su internet è del 600. Poi dalle immagini interne commenteremo tutto ciò che ha rinvenuto Matteo e invece nella parte qui a sinistra, che potrebbe essere quella più del chiostro, possiamo vedere invece che è stata parecchio rimaneggiata. Nella parte frontale, accostato all'edificio, possiamo trovare una parte più antica. Adesso qui non è accessibile per via di questa boscaglia, ma vediamo se riusciamo a avvicinarci. Invece la parte di sinistra è sicuramente la più mantenuta e la più moderna. Adesso vediamo se non troviamo dei serpenti velenosi. Di andare qua e cercare di fare un commento. Sì, perché non so se avete notato in questa settimana che è venuto fuori il caldo, nonostante le grandi piogge, ci sono un sacco di serpenti morti per la strada, perché vengono fuori a cercare il caldo. Ecco, potete vedere qua nella parte sulla destra, che è abbastanza malmessa. C'è il chiostro, probabilmente, di questo monastero, di questo eremo. Nella parte davanti, proprio in faccia a noi, è la parte più antica. Invece nella parte di sinistra sembra tenuto meglio, sembra più moderno. E anche questa scala sicuramente è più moderna. Dalle informazioni che abbiamo su internet abbiamo visto che ci sono delle grandi evoluzioni di questo eremo, perché poi è passato, dopo la Prima Guerra Mondiale, è stato un sanatorio per i feriti di guerra e poi per la cura della tubercolosi femminile. E poi, invece, più avanti è diventato un vero e proprio ospedale e una parte più nuova che Matteo ha documentato e che adesso è in totale abbandono è stato ospedale della zona di Lanzo e ultimamente anche è stato una RSA. Quello che mi stupisce sempre, dovrei approfondire, esiste una legge italiana che permette nei luoghi abbandonati di andare ufficialmente con associazioni no profito di volontariato senza fini di lucro a recuperare tutto il materiale, perché si parla tanto di sostenibilità, di riciclaggio, di poter risparmiare, di non sprecare della tutela, del creato eccetera. Allora, in questa struttura che Matteo ha documentato, io noto tantissimo spreco di materiale. Si potrebbero recuperare molti elementi di questa RSA e si potrebbero donare magari a strutture che oggi ne hanno bisogno per l'illuminazione, per gli impianti eccetera. Ecco, bisognerebbe sensibilizzare lo Stato, gli enti pubblici, secondo me, in questa direzione, perché non bisogna lasciare un stato di abbandono e sprecare tutto questo ben di Dio. Qui alle mie spalle c'è la Chiesa, che tra poco andremo a vedere, il Don ci aiuterà ad analizzarla perfettamente. Quindi proseguiamo, vi faccio un attimo vedere. Allora, vedete questa qua? Tutta la Chiesa, veramente stupenda, non vedo l'ora di volare con il drone. Poi c'è questa struttura qua che è tutta sigillata. Adesso noi faremo questo corridoio che porta prima alla Chiesa e poi dopo, più in là, alla parte vera e propria dell'eremo, quindi dove c'erano gli eremiti. Mentre la parte che abbiamo visto prima di là era la parte moderna che era RSA. Non so questa parte qua di edificio come veniva usata quando c'era la RSA, questo non lo so. Allora siamo entrati nell'edificio comunicante con la Chiesa, quindi da qua dovremmo riuscire ad arrivare alla struttura interna. Molto provato, distrutto, i pavimenti gonfi, ma non ci interessa la Chiesa che dovrebbe trovarsi proprio al di là di queste porte. Vediamo, qua c'è un... sembra una sdraio. Ah ok, eccola qua. Siamo arrivati nella Chiesa, preparatevi. Guardate che spettacolo. Stupenda, ha delle decorazioni da far paura. Mi dispiace non essere venuto qua con il drone FPV. E' veramente bello. Guardate anche l'altare. E adesso lo analizzeremo per bene. L'altare di legno. Si vede lontano un miglio. Qua hanno portato via al tabernacolo. Ci sono dei cassetti, parti di calcinaccio che sono caduti. Ah ecco, vedi questi calcinacci qua. Allora è interessante vedere queste statue che si sono sciolte per l'acqua perché erano di gesso. Probabilmente San Giuseppe. Si sono sciolte perché quella parte lì è venuta giù. Gaspare Granero ha dedicato al re dei re o sequio e offerta nell'anno di salvezza, nell'anno del Signore sarebbe 1664 se non mi sbaglio. Poi bisogna controllare. Vedi di qua le luminarie sono cadute a sinistra mentre a destra ci sono ancora. Si vede che è ancora bella solida, bella consolidata. Non c'è un pezzo là in mezzo che perde ma è ancora molto molto recuperabile diciamo. Ci sono sicuramente c'erano stati dei quadri del Seicento qui a fianco all'altare. Qua dietro c'era la parte del coro perché era un ordine religioso e quindi anche il coro è stato tutto rimosso. un coro del Seicento. Si notano in tutti gli angoli alti delle volte, in tutte le parti centrali delle volte, gli stemmi che probabilmente sono della famiglia Granero. Qui c'è un altro basamento di una statua che si è sciolta perché erano fatte di tela e di stoffa. Non ci sono parti particolarmente di valore perché sono state divelte. Ad esempio queste balaustre di marmo. Strano che sia rimasta ancora la cornice perché di solito vengono bene anche per fare dei ripiani, dei balconi. Invece le due balaustre laterali sembrano di materiale più povero. L'altare è di legno perché si vede che si sta gonfiando e sta venendo giù. C'è anche il pulpito che è ancora intero qua, di legno, che era il posto da dove si faceva l'omelia una volta. Non si riesce a capire a chi è dedicato quell'altare. Invece qui l'altro altare, dall'altra parte dei cor Carmeli, sicuramente era l'altare dedicato alla Madonna del Carmelo o detta Madonna del Carmine. La lapide dedicata al benefattore che ha fatto costruire questa chiesa, c'è anche il busto di questo Gaspare de Graneris con tutta la scritta sotto. Dedicato a San Romualdo, l'arcivescovo di Torino, grande lemosiniere del re, presure il giudice del re, con il vescovo di Ivrea, Francesco Lucerna, Rorerungo de Rora, ha inaugurato questo edificio con un rito, l'otto delle ideidi di settembre dell'anno della salvezza 1767, se non mi sbaglio. Allora, nell'arco della volta ci sono gli stemmi tenuti da angeli, da putti e intorno in quasi tutte, no, tutte e quattro le campate centrali della cupola centrale e poi anche sopra l'ingresso dove c'è lo stemma con il busto di questo benefattore Gaspare de Graneris, si vedono putti che tengono lo stemma gentilizio e poi cascano da un lato e dall'altra tutta dei motivi floreali, dei motivi di frutta, eccetera, che rappresentano la ricchezza e l'abbondanza. Nella parte alta della chiesa si nota molta più decorazione che nella parte inferiore, questo quasi a spingere chi entra in chiesa a guardare verso l'alto, era una caratteristica tipica antica, cioè far nascere senso di stupore, sentimenti di ammirazione guardando verso l'alto, cioè verso il cielo, cioè verso Dio, aprirsi alle realtà celesti. Era tipico di tante chiese, anche ad esempio quelle gotiche che sono altissime, avevano proprio lo scopo di far nascere il desiderio di guardare verso l'alto, verso il cielo e così anche questa chiesa che nella parte inferiore tutto sommato è abbastanza povera. L'altare, questo qui dedicato alla Madonna del Carmelo, si vede che è di mattone. L'altare dedicato alla Madonna del Carmelo, che si vede è stato anche riaffrescato da qualche personaggio, non bene identificato, mi ha fatto venire in mente che nella parte centrale del tavolo dell'altare c'è il buco per la pietra, era la lapide consacrata che veniva messa all'interno dell'altare. Non si consacrava tutto l'altare, ma si portava la pietra consacrata, la lapide che il Vescovo aveva consacrato e la si inseriva lì e quindi l'altare era consacrato solo perché c'era la presenza di quella pietra. dovrebbe vedere anche nell'altro altare com'è. Ha avuto un cedimento, questo altare è venuto tutto in avanti, si è staccato tutto. Sono state rimosse molte decorazioni, lampadari ad esempio, si vede che ovviamente non ci sono più. Poi sono state rimosse tante decorazioni dagli altari laterali, sia questo qua dedicato alla Madonna del Carmine, del Monte Carmelo e sia là sopra nella parte i rimossi quadri eccetera, le statue si sono sciolte per via dell'acqua o dell'umidità e poi anche in questo altare laterale sono state portate via sicuramente le colonne perché ci sono i buchi con i basamenti, magari erano anche crollati e quindi le hanno portate via più facilmente. Questo sicuramente è un elemento delle colonne e una colonnina della balaustra. Solo guardando questo particolare si capisce che era una pietra molto luminosa, sembra quasi alabastro e quindi vuol dire che tutto il colonnato che è fatto con lo stesso disegno erano pietre potremmo dire luminose, cioè che rispecchiavano, erano molto belle, quasi simil trasparenti. Il pavimento si vede che è tutto di inserti di marmo, anche qua sembra alabastro, sono molto belli. Allora questa qua invece è la sacrestia della chiesa, come vedete è venuto giù tutto in blocco, un pezzo del soffitto, quindi qui stiamo attenti, meglio non andare troppo. Ci sono i vari mobili dove erano appoggiati tutti gli oggetti della sacristia e di qua uguale. Adesso vi porto un attimo nei sotterranei, qua dovrebbe esserci una piccola cripta, infatti, che va giù. Non so se è allagato oppure no. Qua cos'è il carbone? Ok questa è la cripta, probabilmente, ce n'è più di una, molto horror. Può darsi che qua tenevano anche il vino perché vedo un bel po' di bottiglie di vino, infatti si, guardate qua, c'è un bel po' di vino. Guardiamo anche dall'altro lato, poi torniamo su, manca ancora tutto un pezzo di struttura. C'è il carbone. Chissà perché è qua. E questo sembrerebbe... è uno scivolo. Sembrava uno scivolo. Da quel buco lì lanciavano qua sotto non so cosa. Se lo sapete, ditemelo nei commenti e iscrivetevi al canale, grandi. Allora, adesso andiamo avanti, passeremo qua in mezzo al crollo e andiamo a vedere la parte più vecchia, quella che dovrebbe essere appunto l'eremo originario, vero e proprio, degli eremiti. Guardate che bella, che bello quest'atrio. Molto luminoso, super luminoso. Leggiamo qua. Emilio Savarino Corti. Croce rossa italiana. Infatti questo posto fa anche il gestito della Croce rossa italiana. E questa... questo è l'ingresso. Qui abbiamo un'altra dedica a Ernesto Rossi di Monte... Montelera. Sempre comitato dalla Croce rossa italiana. Vediamo qua. Questa è una cassaforte vecchissima. Ma cos'è una cassaforte? Sì, è una cassaforte, ma fa paura. Ma guarda, ma hai visto una cassaforte così? Ma che bella. Che strana, sembra medievale. Pensa te. Ma ci sono ancora dei computer. Cos'è questa? Qui siamo nelle altre stanze. Sembra comunque rimodernizzata anche quest'ala. Bellissima questa. Guardate che opera d'arte. Sedia con sedia. Sedia su muro e sedia per terra. Muoviamo avanti. Vediamo qua se c'è la porta che ci ricongiunge al corridoio. No, un vicolo cieco. Allora, qui facevano i raggi perché c'è un foglio di questa signora che il 13 novembre 2016 ha fatto un servizio di radiologia. Però il 2016 è successivo alla data che avevo trovato di chiusura che era il 2013. Quindi magari una parte di questo edificio ha continuato a funzionare anche dopo. Andiamo avanti. Comunque io pensavo che quest'area fosse più antica e invece era stata anch'essa rimodernizzata. Tutte stanze vuote. Vedete? Questi stanzioni dove probabilmente c'erano gli anziani. Questo è un po' curioso perché ha questa... Il tetto ricorda una chiesa. Guardate qua queste scale. Tutte in pietra. Nuove. Sembrano fatte ieri. Sono anche belle come forma. Dopo andiamo a vedere sopra cosa ci riserva. E poi c'è anche un sotto. Lo giù di... Di due piani. Molto creepy. Guarda che bella fotografia viene da qua. Guardate che strano. Qua c'è scritto servizio veterinario. Qui c'era anche il veterinario qua dentro con le volte sul tetto. Particolare. Anche nella stanza di fianco abbiamo lo stesso schema di costruzione con le volte. Guardate qua dalla finestra che bella la chiesa. Quel panorama. Che bello questa vista. Bella. Mi piace come struttura. È pericolante perché vedete ci sono questi coppi che stanno proprio cadendo. Ok adesso ci troviamo invece fuori dalla struttura nuova. Questa secondo me era la struttura adibita a RSA. Quindi l'ultimo periodo di vita di questo luogo si è svolto diciamo qua dentro dal 95 al 2013 dove questo enorme edificio che vediamo alle nostre spalle era appunto adibito a RSA. Adesso entreremo e vediamo cosa è rimasto. Iniziamo l'esplorazione dalla ex RSA. Di qua abbiamo le stanze del primo piano che sono tutte completamente spoglie. Qui attenzione zona controllata qui c'erano dei macchinari eh sì chissà per cosa erano questi vedete qui c'era uno stanzino isolato quindi probabilmente qua si facevano i raggi ai pazienti. Allora proseguiamo noi siamo arrivati da qua dal corridoio il primo piano magari era un piano con le varie macchine per fare eh le visite ai pazienti il rame non esiste più portato via hanno tagliato tutti i cavi qualcosa è rimasto vediamo qua qua è vuoto queste sono alcune porte che hanno murato per fare in modo che la gente non venisse più dentro ma le hanno già sfondate e poi abbiamo quel che resta di un bagno allora qui abbiamo trovato un quaderno parte di ricambio questo è il macchinario che c'era nella stanza di prima tavolo universale di esami accessori lo riconosco da questo che era quel pezzo che era ancora appeso quindi sono tutti gli accessori a richiesta per quel macchinario medico componenti quanti pezzi un catalogo di accessori allora andiamo avanti qua penso che arriveremo sia la scalinata principale bella mai vista una scalinata fatta in questo modo in pietra molto bella questi pezzi che si puntano fuori particolare come scala qua è piastrellata va al secondo piano però da come si vedeva da fuori c'è più di due piani qua dentro io conosco conosco la persona che ha fatto questo graffito perché mi ha scritto una volta su instagram io vi ricordo questo disegno quindi salutiamola e ha coperto il cartello con le varie indicazioni quindi di qua a sinistra da dove siamo arrivati c'era la segreteria amministrativa la cappella le camere mortuarie la cappella chissà qual era allora andiamo avanti ha comunque oggi video in 4k quindi potete vederlo anche alla massima qualità allora qua abbiamo un'altra stanza murata è un po' difficile capire cosa era ogni stanza e c'è un'altra scala che sale ma io voglio salire da quella principale belle vetrate distrutte tutto intorno alla scala che è lì davanti di qua sembra che ci sia un salone grande più o meno allora vedendo i muri piastrellati probabilmente era una cucina questa sembrerebbe una cucina ma qui invece abbiamo una trappola probabilmente c'era la scensore qua dentro adesso invece per ammazzare le persone c'è un babbo natale così abbiamo un piccolo babbo natale abbandonato proseguiamo molto dispersiva allora qui abbiamo qui dall'altro lato c'è quelle che probabilmente erano le cucine siamo arrivati da da là in fondo faccio vedere un attimo questo è quello che rimane e poi questo sembra una cella frigo si sigilla poi magari tenevano a mangiare non ci sono ripiani c'è una sedia un po' inquietante e di qua la cassetta per le bottiglie quindi con probabilmente qua dentro era una cella frigorifera infatti luce cella compressore andiamo avanti per il primo piano allora vedo una scala che va giù giù magari c'era ma i morti erano lì all'ingresso di solito la camera mortuaria è nei sotterranei di queste strutture dopo andiamo a vedere intanto finiamo un giro veloce qua sopra da qui dei muri sembra ancora una cucina di solito questi muri ci sono nelle cucine e qua in fondo secondo me si chiude con i bagni non riesco però a capire in quale parte dell'edificio siamo se siamo in quello azzurro quello più nuovo o se siamo nell'edificio quello più vecchio ma forse l'abbiamo già fatto tutto quanto e questo qua è già l'edificio nuovo e siamo tornati alla scala adesso proviamo a salire da questa per andare al secondo piano una scala doppia c'è sia destra che sinistra vediamo dove porta chissà perché è fatta in questo modo particolare allora questa è la scala che abbiamo visto poco fa sotto forse questa è la scala principale quella lì è più una scala di bellezza qui c'è scritto per la morte andare a sinistra gli ascensori sono bloccati io inizierei vado di qua qua sopra sicuramente avremo i vari piani scusate le varie stanze sotto era adibito a cucina mensa cappella eccetera eccetera qua sopra secondo me erano le stanze c'è il crucifisso al contrario e sotto sucate satanisti quindi per una volta si sono combattuti qua dentro di solito ci sono solo crucifissi al contrario vediamoli qua queste sono tutte le stanze dei pazienti c'è un numero su ogni porta qui è 12 vedete 11 6 guardiamone una si sono tutte fatte ma no questo è un bagno questo è un bagno andiamo quella dopo andiamo qua anche qua sono dei bagni comunque superbello notare come hanno messo le lastre di metallo e le hanno sfondate hanno tirato già tutte le porte e poi per concludere hanno messo i mattoni quelli li hanno ancora buttati giù e qua siamo dove eravamo poco fa e ci accompagna il balcone abbiamo questo immenso balcone che dà sulla natura è molto bello è rilassante vedete lungo costeggia tutta la stanza che abbiamo visto poco fa questa ok adesso siamo nella nell'ala opposta anche qua lunghi corridoi qua abbiamo una stanza con le stesse finestre di quella di prima penso che infatti sia lo stesso balcone no ah no è un altro balcone ancora un altro balcone ancora questo è molto più lungo quindi c'erano tutte le stanze sulla sinistra che davano su questo balcone su questo balcone qua qui hanno distrutto il cartongesso vediamo un po cosa rimane dalle nostre stanze ci sono tutti questi sportelli qua in alto ok sì le stanze sono completamente devastate c'è la rana di roccia scoperta che non è il massimo e come dicevo prima danno tutte su quel balcone lunghissimo vista bosco invece dal lato opposto abbiamo i bagni bagni distrutti completamente che non esiste più niente tranne questo gabinetto resiliente che ci crede ancora per poco ma ci crede ancora in questo vedete l'edificio azzurro quello che sembra più moderno cioè che hanno provato a sistemare almeno l'hanno imbiancato che vedevamo da fuori però internamente sono messe uguali sia la parte di destra che la parte di sinistra non so perché qua abbiano fatto questa rinfrescata del colore mentre di là no allora qua possiamo notare questi sacchetti che sono erano utilizzati come ultima parte sostitutiva dell'intestino e questo fa presupporre che la struttura fosse una vera e propria struttura ospedaliera e non solo un ricovero per anziani siamo tornati alle scale quelle principali adesso andiamo a vedere i piani superiori anche qui gli ascensori li hanno bloccati i corridoi sono gialli qua questo piano è giallo carino cambia colore in base al piano alla destra ci sono i bagni questa sembra che sia una stanza più piccola magari una singola o doppia con bagno annesso mentre quelle di sotto sembravano più delle quadruple questa è già un po' più grande potrebbe essere una stanza da quattro e anche qui abbiamo sul lato il balcone che costeggia tutte le stanze vediamo si guardate che c'è un cane là in fondo cos'è vediamo molto strano anche qua sembrano dei dipinti eh no sono fatti sul muro sembrava appeso qualcuno è venuto a fare i murales strano quel cane sembra un dalmata verde vediamolo da vicino un cane maculato verde guardate qua abbiamo ancora i cartellini sulle porte volete farvi una risata a primo impatto l'ho preso pure seriamente ma andrà già voi siamo nella struttura quella centrale tra gli edifici questa era un'altra probabilmente un'altra area relax salottino per gli anziani infatti c'è anche il climatizzatore qua sopra guardate che strani questi murales mai visti davvero belli sono particolari mi piacciono mi piacciono anche questo di qua chissà cosa rappresenta terzo piano anche qua tema giallo lo schema è lo stesso ci sono le stanze tutte con un corridoio e dall'altro lato invece hanno solo le finestre qua ci sono i bagni ogni piano è la fotocopia dell'altro speravo che cambiasse colore invece non è cambiato qua però qua hanno avuto il coraggio di venire con una mazza a sfondare il muro di mattoni oltre ad aver levato il metallo davanti complimenti per la voglia allora questo è il penultimo piano passiamo dal giallo a un arancione pesca quelle stanze sono vuote vedete sono tutte vuote e come sotto abbiamo dall'altro lato il balcone quello che vedete là in fondo quella struttura lì sulla collina erano le miniere di balangero ho fatto anche un video sul canale era la miniere di amianto più grande d'europa se ne vedete a cercare sul canale troverete il video adesso saliamo qua all'ultimo piano ok qua era soltanto una mega balconata davvero bello guardate qua che spettacolo c'è un panorama bellissimo davvero bello c'è un po' di vecchietti e gli ammalati qua sopra a contemplare la natura per stare meglio guardiamo il panorama davvero rilassante qua sopra qui cacciano queste strutture in mezzo al bosco questi grossi edifici che regalano questi panorami e questo relax qualcuno avrebbe l'ansia a stare qua sopra però vabbè questi sono dettagli tutto bosco cercano dal bosco sicuramente c'era la strada era più agibile una volta però la boscaglia era questa c'è anche una pianta di ciliegie lì davanti ringrazio Matteo per queste opportunità che mi dà delle scampagnate estive e continuate a seguire il suo canale che trovo sempre interessantissimo ci vediamo la prossima escursione con Matteo